L'appello del fratello ha ottenuto l'effetto sperato, il resto lo hanno fatto i carabinieri che avevano controllato le carrozzerie della zona alla ricerca di un indizio dal quale poter risalire al conducente dell'auto pirata che lo scorso 31 gennaio su questa strada alla periferia di Molfetta aveva investito Francesco Marzolla, 35 anni, adesso in coma al Policlinico di Bari. Nelle ultime ore la svolta, un ragazzo sulla ventina d'anni, di buona famiglia, lo descrivono i militari, si è costituito in caserma. Non riusciva, detto, a sopportare questo peso sulla coscienza, ha riferito di non aver visto il pedone, di averlo travolto e di essere fuggito per paura. Immediata è scattata la denuncia per omissione di soccorso. Quella dell'auto pirata era stata la prima ipotesi dei carabinieri, supportati anche dalle dichiarazioni di due testimoni che avevano visto qualcuno scaraventato sull'asfalto e una macchina scura allontanarsi in tutta fretta. Ai nostri microfoni il fratello di Francesco però non aveva escluso altre ipotesi, anche quella secondo cui qualcuno, forse un cliente, avesse potuto investire intenzionalmente la vittima, più conosciuto a Molfetta come Ambra, un transessuale che spesso si prostituiva in diverse zone della città. La vicenda per il momento è stata chiarita, Francesco però lotta ancora tra la vita e la morte.